Taranto, piazza Fontana, Fontana di piazza Fontana e qui il degrado, uno scempio mai visto che perdura forse da un annetto, trascorrono i mesi e la Fontana è sempre più abbandonata e le acque sono sempre più stagnanti, una vera palude, un qualcosa rispetto a cui il Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'Asda di Taranto dovrebbe intervenire, è inaudito una cosa del genere. Guardate qui, si è creata una palude, acque potride, uno stagno, non solo non funziona la Fontana ma è ridotta, dicevo, in condizioni igienico-sanitarie precarie, preoccupanti, ma basta fare un giro e troviamo uno scempio sempre più crescente e questa è poi l'immagine dell'amministrazione Melucci, del sindaco Melucci, del vice sindaco Manzulli, assessore allo sviluppo economico, che parlano di Taranto capitale di mare. Manzulli, Melucci, Melucci, Manzulli, guardate qui, guardate, guardate questo scempio, questo schifo, che immagine è per i turisti, oltre che naturalmente per i tarantini. Guardate qui, qui proprio la situazione è inammissibile, è vergognosa, oramai la sporcizia si è stratificata. Immaginate, scendono i turisti dalle navi da crociera, si fanno il giretto nel borgo antico a Tarantovecchia e la prima cosa rispetto alla quale si imbattono è questa fontana. Che immagine si fanno? E voi, Melucci e Manzulli, osate parlare di turismo? Avete il coraggio di parlare di turismo? Vi abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi piazza e balia spenta, ma quella è oro, è solo spenta. Qui, guardate che sporcizia, guardate, c'è di tutto, penne di animali, rifiuti, qualcosa di incredibile. E non sono solo i rifiuti degli incivili, ma proprio non viene pulita, non viene pulita addirittura dei resti, delle penne di animali. Proprio è qualcosa di osceno, significa non saper amministrare la città. L'amministrazione Melucci non sa amministrare la città e vi sfido a dimostrarvi il contrario, vi sfido, dimostratevi il contrario. E la solita ipocrisia, guardate lì, la solita struttura in ferro con scritto Welcome to Taranto, Taranto capitale di mare, Taranto capitale del turismo. E dove la mettono questo totem, chiamiamolo così? Proprio dinnanzi alla fontana, proprio davanti a questo schifo, a questa merda, perché questa è una situazione di merda e nessuno si scandalizzi. Bisogna scandalizzarsi della merda che sta qua dentro, non delle parole. Però di fronte bisogna sempre prendere per i fondelli cittadini, i turisti e far vedere. Poi non fa niente che c'è la schifezza, l'importante è apparire e non essere. Vero Melucci? Vero Manzulli? Vi dico, politicamente da consigliere di opposizione vi tormenterò fino a quando questa fontana, così come altre realtà di Taranto, avranno un'immagine di vivibilità minima. Neanche quella, neanche quella. Non sapete amministrare. Andate in altre città d'Italia, imparate come si amministra, come si fa turismo. Così volete promuovere il territorio, così volete promuovere i Taranto. Ma per cortesia, taccete per sempre che fate più bella figura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.